Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia digitale. Oggi una puntata per me molto importante perché arriva dopo una settimana di silenzio forzato. Silenzio forzato per quanto riguarda la pubblicazione di podcast in quanto a causa della malattia della mia seconda figlia Caterina che è stata ricoverata in ospedale si è creata una settimana complicatissima da gestire. E quindi come sapete se siete iscritti al canale Telegram di Strategia Digitale non ho potuto pubblicare episodi. Tutto quello che è successo legato a questa vicenda è un po' il contesto nel quale nasce questo episodio. Questo episodio nel quale mi piacerebbe riflettere insieme a voi su alcuni aspetti fondamentali del digitale. Cioè se non capiamo questi qua possiamo fare il web marketing, l'advertising, la campagna su Facebook di qua e di là ma non caveremo mai un ragno dal buco. Perché proprio nel migliore dei casi se proprio saremo fortunatissimi riusciremo a fare due soldi ma niente di più. Allora vorrei riflettere insieme a voi su questi aspetti ma prima voglio ringraziare i nostri finanziatori, i nostri produttori. Chi sono? Sono ascoltatori coraggiosi che hanno detto ragazzi io mi metto in gioco e decido di finanziare questo esperimento, questo progetto che è il podcast Strategia Digitale con un piccolo grande importo mensile, non importa quant'è ma è importante partecipare insieme a quest'opera. Il podcast è mio ma è anche vostro e in particolare di quelli che lo finanziano. Sto parlando di Roberto Andreoni, sto parlando di Federico Izzi, Daniele Tossi, Erika Valiengo, Mariano Lampis, Gianluca Gorlani, Mauro Arizzo, Marco Bazzo e Daniele Risi. Li ho letti in ordine di finanziamento perché i primi che ho letto sono i nostri grandi finanziatori, coloro che hanno guadagnato la possibilità di essere citati in ogni puntata come i grandi finanziatori del nostro podcast. Per finanziarlo sapete come bisogna fare, andare su youmediaweb.com slash finanzia e decidere pure voi in che modo volete partecipare a questo nostro esperimento. Allora ragazzi, non poniamo più tempo in mezzo, scopriamo insieme questo titolo di questa puntata che ho voluto volontariamente criptico. Scopriamo insieme perché secondo me tu sei una persona speciale. Allora ragazzi, voglio raccontarvi tre storie oggi. La prima è la storia del sottoscritto quando qualche settimana fa doveva andare al Web Radio Festival. Ho organizzato per mesi questa partecipazione al Web Radio Festival, ho acquistato uno schermo da 52 pollici sul quale mostrare live, l'utilizzo di Spreaker Studio per fare delle demo in tempo reale, facendo le interviste alle persone che sarebbero arrivate. Sono arrivati ospiti un po' da tutta Italia. È arrivata Odra Bertolone, la podcaster di lavoro da casa. È arrivato l'editore Simone Bedetti, editore di Area 51, anche lui podcaster. È arrivato questa volta non da fuori Roma, dalla romanissima zona di Montesacro, originariamente il nostro amico Gianluigi Leoni, che è l'autore del podcast Radio Vacanze. Quindi immaginate quanto lavoro nell'incastrare tutte queste interviste, il trasporto dell'attrezzatura e tutto. A quant'era? 72 ore prima dell'evento, forse 48, il mio collaboratore che doveva venirmi ad aiutare per l'evento, visto che la mia socia Sara Veltri era a San Francisco, anzi è a San Francisco, e il mio fonico preferito, Costanzo Amineo, stava niente po' po' di meno che in viaggio di nozze, a Bora Bora. Allora mi sono trovato a dover chiedere a un altro ragazzo un supporto per la giornata e questo purtroppo è stato chiamato in Sicilia per un'emergenza familiare. Quindi mi sono trovato assolutamente a piedi. Che faccio? Chi mi potrà aiutare? Come farò a gestire la presenza a questo evento, visto che devo anche intervenire e fare un workshop? E mi è venuta un'idea. Sono andato su Snapchat e ho pubblicato uno Snap dicendo, ragazzi, io ho questa situazione qua, chi vuole venirmi ad aiutare? e mi ha risposto un ragazzo di nome Alessandro. E Alessandro è venuto, ha partecipato con me allo Web Radio Festival, è stato lì dalla mattina, è arrivato prima di me, se n'è andato nel pomeriggio, ha presidiato lo stand, ha parlato con le persone, mi ha supportato in ogni necessità. Ora, voi vi direte, magari farete la parte dell'avvocato del diavole e farete Uè, Gaudiano, ma questo Alessandro avrà avuto qualcosa da guadagnarci? E invece no, ragazzi. Alessandro è un padre di famiglia, il suo lavoro è una persona sistemata che non aveva assolutamente secondi fini, non voleva scroccare consigli o consulenze informali sul suo progetto online, perché non aveva progetti online. È semplicemente una persona che, ascoltando il podcast Strategia Digitale, è entrata in contatto con me e quando ha sentito di una necessità si è presentata e ha fatto di tutto per aiutarmi. Una seconda storia vi voglio raccontare, si riferisce a qualche giorno fa, evento di Marco Montemagno nella sede di Radiotaxi 3570, intervallo, arrivano da me tantissime persone, ascoltatori di Strategia Digitale che hanno partecipato a questo evento e che mi hanno riconosciuto, perché stavo anch'io lì come ascoltatore nel pubblico per partecipare a questa giornata molto particolare, si avvicinano, mi salutano. Tra di loro se ne avvicina uno in particolare, il suo nome è Federico. Federico arriva e mi dice, guarda, io vorrei finanziare come produttore il podcast Strategia Digitale. L'ho fatto attraverso Patreon, sono andato su youmediaweb.com slash finanzia, ho messo il mio finanziamento ma Patreon mi ha detto una cosa, che lui dal mese prossimo mi permetterà di finanziare. Il mese prossimo rispetto a quando ho richiesto di finanziare saranno presi i soldi dalla mia carta di credito, dal mio conto Paypal. E io invece vorrei partire sin da subito, perché il valore che ho avuto tramite il tuo progetto, tramite il tuo podcast, è grande e mi piacerebbe in qualche modo farne parte anch'io, ricompensare, ricambiare questo valore che ho ricevuto. Ha detto, ma sei proprio sicuro? Guarda, non c'è bisogno, non importa. No, no, assolutamente. E qualche minuto dopo arriva una donazione tramite Paypal di Federico che proprio non ha potuto aspettare al mese successivo per iniziare a essere produttore del podcast. La terza storia che vi racconto è quella alla quale vi facevo accenno all'inizio di questa puntata. La mia storia, sempre, proprio qualche giorno fa, quando mi sono trovato a dover inviare un messaggio al gruppo telegram.me slash strategia digitale, al gruppo telegram di strategia digitale, dicendo ragazzi, mi dispiace, voi ricevete ogni giorno il podcast, ma oggi non ve lo posso mandare. Non ve lo posso mandare perché la mia seconda figlia, Caterina, è stata ricoverata. Per inciso, in questo momento in cui vi parlo, proprio qualche minuto fa sono rientrato a casa e ho accompagnato mia moglie e mia figlia dall'ospedale a casa perché proprio oggi è stata dimessa, con mia grande gioia. Infatti, oggi mi sento l'uomo più fortunato del mondo. Una grandissima gioia, soprattutto perché la famiglia è finalmente riunita dopo aver passato questo momento un pochino difficile, di grande tensione psicologica, oltre che di problemi fisici. Quindi, la storia è andata a finire bene. Ma la storia che voglio raccontare non è quella della malattia di mia figlia, ma è quella delle decine di persone, decine di voi che mi state ascoltando in questo momento, che mi hanno risposto in privato, mi hanno mandato dei messaggi di supporto, di incoraggiamento, di solidarietà, raccontando esperienze personali, ringraziandomi, trovando l'occasione per ringraziarmi di cose imparate da me durante questi anni, delle quali io non sono assolutamente, diciamo, sono solo un mezzo. Io vi riporto quella che è la mia esperienza. Non sono un guru, non sono un espertone, sono un curioso, un esploratore, un appassionato del mio lavoro e della vita, di come anche questa vita di oggi, immersa nel digitale, si può destreggiare per avere comunque il meglio, per migliorare in meglio il mondo e la nostra vita quotidiana. E allora decine e decine di voi mi hanno mandato dei messaggi. Questi messaggi mi sono arrivati così intrecciati ai messaggi degli amici, degli amici più intimi, delle persone di famiglia, che pure loro mi mandavano messaggi, alcuni di loro anche tramite Telegram. E' veramente stato un supporto enorme, un supporto psicologico incredibile e mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere su tre aspetti. Tre aspetti che emergono da queste tre storie, tre cose che queste storie hanno in comune e tre cose che secondo me dobbiamo capire. Dobbiamo tenere ferme davanti a noi per riuscire a creare questa strategia digitale, a creare la nostra strategia digitale e a far sì che questa strategia funzioni. Il primo aspetto è la gratuità. Io non ho dato nulla ad Alessandro, cioè non l'ho pagato. In realtà non sapevo proprio veramente come sdebitarmi, gli ho regalato la maglietta di You Media Web che lui ha subito indossato, gli ho regalato e dedicato il libro YouTube per il business, ma Alessandro non era lì perché voleva un compenso, perché voleva qualcosa in cambio. Lui era grato e contento di quello che già aveva ricevuto gratuitamente e gratuitamente voleva dare qualcosa in cambio. La stessa cosa a Federico. Gratuitamente ha sentito di voler partecipare a questo progetto e gratuitamente tantissimi di voi mi hanno voluto dare il loro supporto. Vi dico che c'è chi è arrivato addirittura a dirmi guarda io sono donatore e quindi se c'è necessità vieni, me lo dici, io vengo a donare il mio sangue. Quindi pensate addirittura il sangue ragazzi. Allora questo per me è incredibile perché oltre alla gratuità c'è anche una grandissima umanità, delle persone reali. D'ora in poi avrò la nausea quando sentirò qualcuno parlare di ascoltatori, visitatori, fan. Questi non sono ascoltatori, visitatori, fan. Non sono dei numeri. Sono delle persone reali. Tu sei una persona reale come io sono una persona reale. E quello che fa il digitale è connetterci. Io ho qui seduto alla mia scrivania a Roma nel mio studio guardando il panorama della skyline romana in una caldissima giornata autunnale e tu chissà dove, chissà come, chissà quando mi stai ascoltando. C'è una connessione tra noi. Magari non ci siamo mai conosciuti, magari non ci siamo mai stretti la mano, ma in un qualche modo ci conosciamo. Abbiamo creato un contatto autentico e questo è il terzo aspetto, l'autenticità. È fondamentale che ci sia autenticità perché penso che siamo tutti stanchi delle dinamiche finte, del finto interessamento, della finta simpatia televisiva alla quale ci siamo abituati. Ci vogliono tutti bene, siamo tutti amici telespettatori e invece amici dei che? Noi non ci conosciamo, non abbiamo nessun contatto, ma chi sei? E la stessa cosa molte volte viene riprodotta nel digitale, no? Tutto così smielato. Ecco, l'autenticità, l'autenticità anche dell'esperienza umana, secondo me fa sì che il digitale non sia reale, ma sia, possa e debba essere autentico. Noi dobbiamo essere autentici attraverso il digitale. Questi tre elementi, la gratuità, l'umanità e l'autenticità, secondo me sono elementi incredibili che ci consentono di creare connessioni attraverso il digitale, utilizzarlo per quello che è, come uno strumento che crea delle connessioni, non una realtà virtuale, non uno strumento di marketing magico, ma un luogo, un modo di creare connessioni tra le persone. e allora è per questo che tra me e voi in qualche modo si è creata una connessione e di questa connessione io vi ringrazio. Vi ringrazio di tutto quello che fate, dal supporto nel finanziamento del podcast fino al supporto psicologico che mi avete dato in questo momento difficile, fino anche alla gioia che mi date quando mi mandate i vostri messaggi e mi dite grazie a quello che ho sentito nel tuo podcast ho trovato lavoro, ho portato a casa un cliente, ho messo in ordine alcune priorità che dovevo mettere in ordine anche nei miei rapporti personali bilanciando famiglia e lavoro. Ecco, queste per me sono cose fantastiche e ti ripagano di tutto, di tutto quanto, perché quando c'è un riconoscimento di questo genere ti rendi conto che veramente dall'altra parte ci sono delle persone speciali, ti rendi conto che tu, che mi stai ascoltando, sei una persona speciale. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero di non avervi fatto annoiare, di non essere sembrato troppo melenzo sentimentale, ma questo era quello che avevo autenticamente nel cuore e volevo dirvelo, sentivo la necessità di ringraziarvi veramente per quello che avete fatto. Allora, unisco a questi ringraziamenti anche quelli di rito, quelli solidi che ritornano sempre, quelli alla coautrice del nostro podcast, Sara Veltri, al nostro fonico che è finalmente ritornato alla base, Costanza Mineo, e a Radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.